In questi sette anni, tra l'altro dopo sette anni c'è la crisi oppure si va avanti, ormai c'è la rivoluzione, ecco il settimo anno diciamo che è quello da decisivo. Allora, salto diciamo le premesse dove mi presentava al titolo personale, professionale, famiglia, vado sul discorso più delle mie passioni e hobby e mi ha presentato così. Passione smisurata per la lingua tedesca e per la cultura delle Alpi, intesa come modo di vivere della gente di montagna, indipendentemente dalla nazione di provenienza, ma come concetto unificante che accomuna la gente delle Alpi, la cosiddetta Alpenlanderloite. Mi piace la musica, soprattutto musica barocca di Bach che mi ha fatto conoscere il mio marito. appassionato, conoscitore della lingua classica e organista. Il mio prezzo preferito sono le variazioni Goldberg che qualcuno ha potuto in questi anni di amicizia anche conoscere con me.